I militari del gruppo della Guardia di Finanza di Gela, coordinati dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Gela, all'esito di un'indagine condotta per frodi in commercio nella vendita di bombe di GPL a Gela hanno eseguito nei confronti di un'importante società ennese operante nel settore di imbottigliamento di gas e liquidi il sequestro di oltre 15.000 bombe di GPL pericolose per il rischio incidenti ed esplosioni, risultate riempite con quantitativi di prodotto inferiore al dichiarato. Le indagini, durate alcuni mesi ed eseguite anche mediante tradizionali tecniche investigative quali pedinamenti e appostamenti, hanno dato modo di ricostruire i condotti illeciti realizzati dal rappresentante legale e da un socio dell'azienda, un residente a Regalbuto e un altro residente a Leonforte, entrambi originari di Catania. Le operazioni di polizia giudiziaria avvenute con la collaborazione di personale del Corpo Nazionale di Vigili del Fuoco, competenti in merito al rilascio delle autorizzazioni ai fini di antincendio e di sicurezza nello stoccaggio di materiale esplodente, hanno permesso di sequestrare 15.895 bombole di varie capacità da 25 a 7 kg, sia piene che vuote, contenente GPL e davanti a una capacità complessiva di accumulo di 222 kg. Il prodotto sequestrato risultato essere circa 30.000 kg, se immesso sul mercato avrebbe fruttato ricavi per un circa 600.000 euro. Gli indagali sono stati denunciati dalla Procura della Repubblica di Gela in concorso per i reati di frode nell'esercizio del commercio di vieto di fabbricazione, detenzione, trasporto e vendita di prodotti esplodenti condotte integrate nella commercializzazione all'ingrosso in diverse province della Sicilia, orientali, Caltanissetta, Aracusa, Enne e Messina e presso operatori della Calabria e del Lazio di bombole di gas GPL ed altro gas esplodente irregolari. In particolare le bombe le erano custodite nei luoghi di lavoro senza rispettare gli obblighi di sicurezza sprovviste in molti casi delle previste periodiche revisioni e consigili di garanzie con le relative punzonature che riportano oltre le caratteristiche di sicurezza anche le date delle revisioni decennali previste spezzate o asportate. In alcuni casi in 40 anni è risultata effettuata una sola revisione. Inoltre le risultanze investigative hanno permesso di appurare delle significative difformità anche in merito al contenuto quantitativo del prodotto esplodente venduto con le bombole condotte accertate anche all'atto del sequestro in quanto a seguito di apposita pesatura dei contenitori si è rilevato che la tara e il peso netto non corrispondevano a quanto indicato dal fabbricante in sede di riempimento. Per tanti soggetti sopravenzionati sono stati denunciati alla locale autorità giudiziaria anche per i reati di sottrazione dell'accertamento o al pagamento dell'accisa sugli oli minerali per aver sottratto GPL o altro gas esplodente da alcune bombole superando le soglie consentite delle operazioni di riempimento e travaso dei combustibili. Il prodotto si resume venga rivenduto in nero evadendo le imposte gravanti sulla vendita di tali prodotti questo ultimo aspetto sarà quindi oggetto di approfondimento da parte delle fiamme gialle gelesi finalizzato a quantificare e sanzionare la società ennese delle relative imposte e vase.